Mi sembra che non è come il giorno è chiesto. E' un po' che tu ero disteso. Quando stavamo entrando nelle... Io stavo alla coccia... Zarina, quando siamo entrati in chiesa... Ma vieni qua. Quando siamo entrati in chiesa, no. Così e via laici. No, essa tra mano mi va via laici. Mamma... Però aspettate, che Andrea... Ma quella coperta è pesca. Che bellina. Tre ne hai toccato. Eh, madonna! Auguri alla sposa! Eh, eh, là, là, addio. Eh, viva, eh, viva! Eh, viva, eh, viva! Eh, no, veramente però. Consiglio adesso a Chico, bisogna fargli il regalo. Dai, vieni qua. Come sono? Come sono? Come sono? No, no, dai. Ma, 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 ma... Vieni qua! Eh, Cole, Loretta, vieni qua! No, no, no! No, no, no! Vieni qua! No, dai, veniva! Dai, veniva... Eh, mi pareli! Ma, ho ilricuolo di famiglia! Ah, vuoi quando s Alberti vuoi... Certo, perché... Vieni qua, prendi, prendi, vai! Vai, chi è la foto di famiglia! Beh, però! Eh, però... Eh, lei che se… Non fa, là, scorta. Eh, quella roba lì è brutta! Dai, facciamo un altro figlio. Dai, facciamo un altro. Non la sto riprendendo, mamma. Eh. c'è la pancia di giocarlo che la copre la roba la mia si copre la mia non si copre e dai questo sfondo e non si rotte oh, faccio il disinvolto eh, prima a voi e dai dai, con sembra che sto facendo la fisica lo aratolo oh, così? abbracetto piano, stai capito non vedo tutto il velo cioè, sono contento di essere qua mi fa piacere e spero che un giorno potrò ricambiare la vostra gratitudine cioè, sono commosso sono veramente commosso non ti scappi le braccia Lucemi, mi fai figo sono veramente commosso cioè, vorrei fare un applauso ai fotografi fotografi che, giustamente alla al pubblico gente in gente dai, io dai 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 no, mano a mano che siamo a meno io a calze che verbo oh, dai io marina mi ha detto che faccio così non mi vedono la roba no, io mi vedo la roba mi vedo la roba no, no ma così madonna, c'è stato il mio vestito tre zora Stefano, sei calmo ho questo vestito teniamo la calma allora nervosei, Duseo tutti in posa nervosei, Duseo tutti in posa ho vinto ecco, state prendendo voi Elisa mamma la pancia è là allora evviva gli scopi ecco, hai vinto Carla, anche tu dall'altra parte dai, il bacio dai scusa i miei parenti mi hai dato tanti davanti ai tuoi e davanti ai miei bacia non iniziamo, la sposa si rivela questa te l'ho presa, eh facendo la rivetta eh, perché usano andare alla busta e c'è certo che il rinato per esempio non so quanti milionari Lucia facciamone una là che viene bene dai, ci dai, e poi facciamo io ma l'altro maledetto ci vediamo garaglio che è una saggezza ma questo video che ti ha quando è tutta la proprietà non è giù da saldare no, è tantoso anche i paggetti non ti fermi io a voi è bella da presentarmi e avere la cosa è la famosa buca sacra quella sì però non succede niente nel vestito io adesso sono io no altrimenti la cosa finita male fuori così come niente comunque là sai che bene che vedi bene lascia andare è vero molla tutto è la bellezza la bellezza è questa la bellezza è questa parlo va bene così va bene tutta la piena Lucia devi essere un po' spontanea ti vorrei vedere io con questo velo eh? va dimmi te toglilo dai ripetito dai ripetito dai ripetito che si sforza no fermatevi lì guarda che c'è un bello sfondo aspetta togli i sabottini ahahahahah ahahah 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 qua va bene sì sì non c'è niente non mora lo dobbè a razza sfondo che bruttina oh ahah a metterò dove dobbiamo scendere qua André che faccella no te lo tiro io il vestito dai vai 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 le bagni asciughe bisogna andare dai che me lo finisci di sporcare vai dai non faccio mettere il pochino il mio cabrioletta ma che ai miei pareti dai scendiamo di qua Lucia ci ho detto di no che bella Stefano ormai no oh lasciati andare lasciati andare è bella languida adesso mi piace uomo State lì, state lì che dovete fare da sfondo, state lì, non vi muovete. Sto facendo, non sapevo, non mi rilassare, non mi rilassare. No, sei comunque qua in voce! Come vedere la scottistina cadere non sei! Va bene così? Va bene? Non è così che si può! Non è una bucola, non è una bucola! Aaaaaah! Fugia! Dai! Dai! Eh così sei troppo sconta! Ehi! 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 Vale e di Ehi! Grazie! 6 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.